Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha tracciato un bilancio dell'attività sostenendo che hanno cercato nell'anno passato di rispondere alle emergenze anche grazie al ruolo dell'opposizione. 15 sedute dell'Assemblea, 36 leggi approvate, 25 sedute di conferenza dei capigruppo, l'ufficio di presidenza ha fatto 34 sedute e 200 deliberazioni. Il passaggio dal governo Conte a Draghi ha provocato ritardi su una riprogrammazione di 137 milioni persi sei mesi, ha ricordato. Un omaggio poi a un ricordo a Rigopiano con l'impegno di tante cose fatte per la montagna della regione. Il Consiglio ha gestito interventi come la legge a sostegno del patrimonio medievale abruzzese, il progetto per la Casa d'Abruzzo a Melbourne e ancora quella a sostegno del pendolarismo universitario o quella che ha permesso per il 2021 di concedere a 145 associazioni denti un contributo per 226 mila euro circa, poi il cofinanziamento da 8 milioni di euro per interventi di riqualificazione in aree degradate. Tema centrale è quello sanitario e pandemico con misura a favore di imprese e non solo. E poi il presidente ha detto che in questo anno si è fatto un grande lavoro sulle strutture sanitarie, ha ricordato il campus di Nicoromito, interventi per evitare lo spopolamento dei comuni, la disciplina del sedente Avelino e tanto altro. Quattro leggi impugnate dal Consiglio dei Ministri su 21 esaminate, una finanziaria discritta, ha detto Sospiri, dopo un intempestivo pronunciamento della Corte dei Conti. Il Consiglio è poi tra le prime pubbliche amministrazioni ad approvare il piano integrato di attività e organizzazione entro il 2021. Ci sono stati anche una serie di lavori, isolamento sismico all'Aquila e Pescara. Il Consiglio è soggetto a tutore poi dell'intervento per realizzare il collegamento meccanizzato tra il Terminal di Colle Maggio e Viale Rendina. Attenzione allo sviluppo tecnologico, assunzioni, attività di Coricom, difensore civico con ben 505 richieste di intervento, garante infanzia e adolescenza, garante detenuti e commissione pari opportunità che hanno lavorato tanto e bene. Io credo che il presidente Marsiglio possa contare su uno dei consigli regionali più leali possibili e immaginabili. La lealtà non vuol dire essere dipendenti. Noi siamo un'assemblea legislativa e il mio compito è anche ascoltare i buoni consigli che provengono da parte avversa la mia. Ciò ha permesso però di approvare tante leggi, magari in una giornata di lavoro, di riscrivere la finanziaria in un giorno, secondo le indicazioni che ci pervenivano anche dall'assessorato al bilancio, dando però coperture a temi importanti come il PSR, il trasporto pubblico locale, le leggi sul sociale e via. Così, questo è possibile quando l'opposizione ti riconosce buona fede nella tua attività. Obiettivi 2022, piano di riforma della rete sanitaria, leggi di settore, recuperare ritardi per la nuova legge urbanistica e nei primi mesi dell'anno, ha detto Sospiri, ci sarà una manovra correttiva dal punto di vista della finanziaria. È aperta una partita col governo e il primo intervento sarà sul fondo per le spese Covid. Al momento viene impedito di usare 47 milioni di euro accantonati. Grazie. Grazie. Grazie.